Siamo con Gianmatteo Mareggini, allenatore dei portieri della Nazionale Italiana di Calcio. Come sono andati i preparativi per il Mondiale in Brasile? Molto bene, il ritiro a Coverciano è stato organizzato nel migliore dei modi, sono state usate i metodi all'avanguardia, tutto è stato preparato nei minimi particolari, i ragazzi hanno risposto molto bene alle sollecitazioni e agli allenamenti che sono stati direi abbastanza duri e mirati e adesso con fiducia ci aspettiamo dei grandi risultati da questo viaggio in Brasile che non è facile perché si sa la squadra di casa è sicuramente favoritissima. Che mondiale sarà? Beh, credo sarà un mondiale come tutti i mondiali avvincente, bello da seguire, bello da vedere, con delle novità che sono anche tecnologiche per quanto riguarda le regole in campo, ci saranno delle telecamere per giudicare se il gol o non gol, ci saranno delle metodologie all'avanguardia e soprattutto ci sarà uno spettacolo anche fuori da campo, sugli spalti, con tutte multietnici, multietnie che si incontrano e che non hanno scopi né interessi personali, ma è un modo per vedere la gente stare insieme in un momento così difficile che nel mondo si sa le cose non stanno andando benissimo, però il calcio serve molto a riunire e a pacificare un po' tutti i popoli. Prima di partire per il Molise è passato qui a Termoglia all'ospedale Santimoteo per dei controlli. Come mai hai scelto una struttura sanitaria in Molise? Io sono una persona che ha girato molti posti, sono sempre stato curato direi bene, però ho trovato qui a Termoli il professor Musacchio che mi ha curato, mi ha soprattutto fatto una diagnosi mirata e tutti i controlli e gli esami che ho fatto mi è sembrato di essere sempre stato all'avanguardia a tutto quello che ho ricevuto e nel migliore dei modi, per cui ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo e la mia vita è cambiata, io mi sento bene e credo che questo sia una cosa importante per me, ma anche per tutti. Come dire, si può giocare qui a Termoli un mondiale della cardiologia? Sì, direi proprio di sì, perché nello specifico io questo ho trovato, questo confermo e questo sono contento di poter testimoniare, questo è un dato importante.